Si lavora sotto traccia e si cerca di mantenere un profilo basso. E' questa la strategia portata avanti dagli uomini, in primis dall'avvocato Enzo Caponnetto, socio attuale dell'Agregas, nonché mediatore con il gruppo asiatico, che stanno lavorando al passaggio delle quote societarie da Silvio Alessi agli iraniani. Una trattativa da cui, dopo le scottanti esperienze di fantomatici closing portati avanti da soggetti discutibili, prima l'imprenditore Alessandro Nucilli e successivamente il manager italo-svizzero Roberto Nava, sembra filtrare un cauto ottimismo. In settimana sono arrivati ad Agrigento due emissari del gruppo asiatico. Si tratta del direttore marketing e di un consulente esterno, che, incontrando i vertici della società agrigentina, hanno voluto salutare la squadra e mister di Napoli e visitare tutti gli impianti sportivi della città. Dallo Stadio Esseneto, ancora oggi indisponibile per la questione illuminazione, ai campi di allenamento di Fontanelle e quello del villaggio Mosè, usato oggi per centro di stoccaggio e di rifiuti. Secondo quanto emergerebbe, infatti, l'impiantistica è una caratteristica fondamentale per il progetto sportivo ed economico della cordata iraniana. Dopo aver effettuato il tour, i due emissari hanno fatto ritorno in Iran per relazionare quanto avvenuto nella città dei Templi. L'Akragas, tramite una nota apparsa sul sito ufficiale, ha fatto sapere che è attesa risposta a breve e già con l'inizio della nuova settimana, probabilmente lunedì, potrebbero esserci importanti novità su questo fronte.